Musica Benvenuti a questo appuntamento di pagina 9, Firenze e la Maremma lo abbiamo intitolato perché comunque siamo già ormai in clima di regionali e siamo in compagnia di Leonardo Marras già presidente della provincia di Grosseto fino a qualche mese fa e ancora non candidato perché ancora le candidature ufficiali non ci sono per il Consiglio regionale ma comunque è uno dei quattro nomi per il collegio della provincia di Grosseto per il Partito Democratico che dovrebbe andare in lista per un seggio in Consiglio regionale perché tra Firenze e la Maremma? perché comunque come in un laboratorio di chimica pare che in questo momento stiano precipitando delle situazioni che forse erano nell'area già da tempo Marras e in questa precipitazione parlo ovviamente del sistema delle aree vaste che comunque è stato deciso a Firenze è un sistema dell'area vaste nel quale a quanto sembra e anche quello che ci ricordava nei giorni scorsi il segretario provinciale della CGL proprio in questi studi a quanto pare la provincia di Grosseto rischia di essere un anello debole lui citava l'esempio del 118 ma che è soltanto secondo lui un primo passo per qualcosa di molto più ampio prefigurava la perdita della prefettura il declassamento del comando dei vigili del fuoco e poi chissà quali altri passi su questa scia che sembra non potersi frenare ecco per chi si propone di fare politica poi a livello regionale guardando al territorio come vede la situazione? è questo che è un po' la situazione per chi fa politica innanzitutto cioè c'è la possibilità di porre un freno di porre dei correttivi perché non è soltanto per una questione di prestigio credo io credo che sia anche una questione di qualità dei posti di lavoro di qualità della vita avere comunque un luogo dove si decide vicino o comunque non essere sempre soltanto attaccati a un carro più lontano forse qualche senso ce l'ha ma allora chi fa politica deve essere un ottimista perché deve avere in sé la forza e la convinzione di poter cambiare delle cose la situazione nostra la conosciamo non ci svegliamo oggi e ci descriviamo come lontani da Firenze anche fisicamente come una realtà molto vasta territorialmente ma poco abitata siamo quello che siamo e questo è un limite ma anche la nostra ricchezza e che ci sia in Italia la necessità di semplificare il sistema pubblico lo andiamo dicendo da tanto tempo e lo dicono gli osservatori coloro i quali criticano anche in questi giorni il fatto che la spesa corrente in Italia sia cresciuta nonostante i tagli alle tasse che sono stati annunciati dal governo e per cui alcune conseguenze naturalmente ci saranno la prima conseguenza è che se verranno tolte le province dalla Costituzione è evidente che l'organizzazione provinciale dello Stato non ci sarà più, il che non significa che non ci sarà più lo Stato ma il fatto che risieda o meno il prefetto a Grosseto ha una conseguenza sulla vita dei cittadini veramente molto relativa il problema invece è, a mio avviso cosa possiamo riuscire ad avere in termini di servizi in una realtà che ha bisogno di alcuni servizi più di altri di alcune infrastrutture più di altre perché come altri territori rurali come il nostro si possa in qualche modo indirizzare una strategia nazionale che pone attenzione a queste cose io mi preoccupo anche di questo e soprattutto di questo perché oggi va di moda troppo la città metropolitana in Italia e anche in Europa mentre invece è un bisogno, ce l'hanno i tanti territori rurali che esprimono altri bisogni e gli stessi diritti di chi vive in una città metropolitana allora qual è il grado... a meno che non si vuole ipotizzare che debbano essere abbandonati ma non è così perché la civiltà europea è rurale la maggioranza della popolazione europea sta in territori rurali per cui non è così cosa noi dobbiamo fare? anche in questo momento in regione visto che mancheranno tante cose obiettivamente perché il fatto che non c'è più la provincia come ente è un livello di sintesi in meno nella rappresentanza di un bisogno collettivo che si sposta su un tavolo più grande che è quello regionale e che in Toscana ha bisogno di essere rappresentato con la fine della provincia perché bene o male con il fatto che non è più è un soggetto di primo livello quindi eletto direttamente dai cittadini già si percepisce in un territorio come il nostro peraltro punto vasto, scollegato che si percepiscono già i tentativi di andare ognuno per conto proprio sì, questo è un po' il vizio nostro di fare un po' da campanile e non rinforza questo ma devo dirti però che ci sono segnali invece di grandissima consapevolezza che non si può andare più da soli da nessuna parte non solo dal punto di vista istituzionale perché magari c'è il gioco di chi magari prende qualcosina che poteva aspettare a quel vicino ma perché evidentemente dal punto di vista dello sviluppo dal punto di vista dell'attenuta sociale e anche ormai dell'organizzazione di servizi pubblici che non possono più essere organizzati solo a livello locale c'è la necessità di una dimensione più grande che forse non è nemmeno più soltanto quella della provincia di Grosseto ecco perché l'area vasta non è imposta è una necessità se noi non si organizzano servizi importanti su una scala che riguarda milioni di abitanti milioni di cittadini diventa difficile poter raccontare ai cittadini che continuiamo a chiedere così tanto per pagare dei servizi così tanto in termini tasse per garantire la pubblica amministrazione radicata sul territorio perché ci sia questa pubblica amministrazione che oltre a essere semplice è anche qualitativamente superiore rispetto ai bisogni che sono diversi e anche più complessi quelli di oggi nel rapporto con le imprese nel rapporto anche con i cittadini nel rapporto con cittadini diversi perché la nostra è una provincia che è animata e abitata anche da molte persone che vengono da altri luoghi che scelgono di vivere qui venendo da esperienze professionali nel nord e che in qualche modo arricchiscono ma anche di bisogni e di aspettative la necessità di rispondere a queste nuove esigenze tutto questo lo si fa sapendo che il prossimo mandato del Consiglio regionale è un mandato costituente vanno ridefiniti gli assetti istituzionali la sanità non sarà più come quella di prima perché ci saranno tre grandi asle in tutta la regione però i servizi vanno dati ovunque in tutta la regione non ci saranno più le province che facevano delle cose le strade, le scuole, la formazione, il mercato del lavoro, l'ambiente, l'agricoltura e ci sarà la regione che si è fatta carico di questo l'unica fra l'altro per ora in tutta Italia ha in qualche modo avanzato una sua proposta ma anche questo va ridefinito perché i comuni, i cittadini, le imprese com'è che si rapportano di fronte a questo nuovo assetto che va costruito? questo mandato costituente bisogna che veda tutta la provincia di Grosseto tutta la comunità impegnata su un progetto che va costruito nel tempo la denuncia va bene io condivido con Renzetti molte delle analisi che lui ha fatto e non da ora ma è evidente che non ci possiamo limitare la denuncia bisogna tradurre questa denuncia, l'analisi in una sintesi efficace e nel modo con cui noi ci rapportiamo alla proposta che sarà toscana che sarà regionale e che protagonismo e che qualità metteremo in quel dibattito credo che si discuta di questo perché noi abbiamo delle carte da giocare in termini anche del futuro economico di questa provincia del fatto che possa essere ancora oggi considerata come va detto è una realtà importante nel paniere toscano e di questa realtà importante noi dobbiamo farci carico in termini di rappresentanza prima di ragionare sul discorso della rappresentanza probabilmente lo faremo nella seconda parte della trasmissione perché stiamo vicini alla pubblicità ma parlando di ampliamento degli ambiti in cui si offrono i servizi è veramente convinto che oltre che la necessità l'ampliamento che è stato fatto ad oggi sia un ampliamento virtuoso mi riferisco per esempio al servizio dei rifiuti di fatto oggi abbiamo un servizio svolto su un'area molto ampia un'area vasta c'è una società ogni volta che è stato fatto un ampliamento di ambito c'è stato detto sempre ai cittadini lo si fa perché l'economia è di scala perché si risparmia perché si possono dare servizi migliori perché si può spendere di meno di fatto non si spende di meno e non si hanno servizi migliori qualcosa non ha funzionato evidentemente cosa secondo lei? allora in questo caso a meno che non mi sbaglio nell'analisi in questo caso credo che sia evidente il fatto che è un servizio che è partito da troppo poco tempo e a questo ancora non si è associato proprio le azioni che servono a ottimizzare le risorse che sono in campo cioè si allarga si razionalizza si professionalizza ma se poi rimane tutto uguale diventa difficile pensare che si possano ottenere dei vantaggi e dei risparmi faccio un breve esempio il servizio dei rifiuti grosso modo a cazzotto costa per metà il servizio della raccolta e del trasporto e per la metà gli impianti lascio perdere tutto il dibattito sulla raccolta differenziata e sulla qualità di questi impianti perché varia solo la percentuale di incidenza tra queste due parti ormai è storia e casistica mondiale queste due parti per davvero ridurre il peso sui cittadini bisogna che si limitino tutte e due e la prima parte più importante è quella degli impianti la razionalizzazione degli impianti significa in un'area vasta pensare a grandi impianti che possano essere davvero capaci di economia di scala e quindi bisogna chiudere degli impianti piccoli e vecchi chiaro questo complica delle cose perché poi bisogna discutere cosa si fa di quei dipendenti cosa si fa in quelle realtà che magari avevano ormai trovato delle soluzioni di compatibilità perché prima si dice di no un impianto e poi quando andiamo a chiuderlo ci sono le proteste anche per chiuderlo però è così e finché non lo faremo noi dovremo consapevolmente però farsi carico del peso dell'inefficienza di un sistema che invece deve trovare le sue efficienze il piano regionale dei rifiuti già lo indica il piano interprovinciale dei rifiuti che è il piano d'area vasta adottato ormai qualche mese fa anzi direi un anno fa lo indica indica quali sono le soluzioni e nelle tre province indica quali sono gli impianti che vanno tenuti aperti e quelli che per necessità vanno chiusi perché così si risparmiano fior di quattrini e naturalmente si fa con favore all'ambiente perché parte di quell'incremento dei costi in molti comuni anche della provincia di Grosseto è dovuto al fatto che fino all'altro ieri si portava in una buca i rifiuti tal quali senza gestione e oggi invece sono gestiti quello ha un incremento di costo secco che naturalmente non è per tutti perché non tutti va detto avevano una gestione ancora arcaica del sistema dei rifiuti ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità e poi torniamo a parlare con Leonardo Marras proprio di rappresentanza perché è un tema che ovviamente in questo momento è caldo eccoci di nuovo in onda con pagina 9 con Leonardo Marras Firenze e la Maremma il tema è quello della rappresentanza di un territorio che è un territorio rurale e in una Toscana che è tutta rurale forse la provincia di Grosseto è quello che di ruralità ne ha ancora di più i caratteri le caratteristiche della ruralità intendo scarsa popolazione territorio vasto l'agricoltura preminente come come situazione la percezione che si ha da cittadini è che Firenze per quanto sia consapevole che la provincia di Grosseto è una provincia importante se non altro come dimensioni perché è una delle più grandi forse la seconda più grande d'Italia togliendo la Val d'Aosta evidentemente però la percezione che sia è che non ci sia la consapevolezza di quello che vuol dire gestire una provincia così una realtà così faccio un esempio qualche anno fa forse adesso le cose sono anche un po' cambiate per fortuna però in sanità si parlava di quota capitaria è evidente che una provincia poco abitata ma così vasta la quota capitale deve essere davvero un correttivo perché non si può pensare di contribuire alla sanità in provincia di Grosseto pagando solo la stessa quota capitaria che si paga a Prato dove la realtà è molto più semplice nel senso che i servizi si offrono più facilmente ecco questa percezione secondo lei c'è o non c'è a Firenze e ci si può portare questa è la cioè che siamo diversi in qualche maniera ma non perché siamo migliori o peggiori ma perché è una realtà diversa e non può essere governata come le altre figurati insomma figuriamoci se io non lo so appunto e penso anche che in questi anni abbiamo cercato anche di manifestarlo quando serve anche va fatto con durezza perché è facile non ricordarsi di quelli che sono di meno però non dobbiamo nemmeno dimenticarci noi di essere di meno cioè è un modo di rapportarsi a questa realtà nuova che necessariamente è più grande che non può essere per noi la realtà autosufficiente autarchica dei confini provinciali in un altro modo però devo dire che insomma ne è passata di acqua sotto ai ponti dall'epoca ricordo addirittura nel 93 quando ci fu 93 e 94 tutta la vicenda del Parco Nazionale dell'arcipelago toscano la regione matrigna la distanza ecco tutta questa retorica negativa è stata ampiamente superata credo che questo sia vero e credo che questo vada detto se non altro dando valore al ruolo che hanno avuto anche le persone perché ci sono persone che nel tempo hanno acquisito ruoli importanti anche di livello nazionale riconosciuti partendo proprio dall'esperienza fatta in Maremma ricordo Anna Rita Bramerini che porta mette il suo nome nelle più grandi e importanti riforme che in questi anni sono state fatte dalla regione toscana demmo a lei un mandato che all'epoca era quello di definire una volta per tutte la vertenza Eni che è stata una delle cose che più di altre ha riempito di titoli giornali locali è attiva è attivo l'accordo di programma e le risorse che quel mondo lì deve mettere a disposizione per recuperare dal punto di vista ambientale il territorio la riorganizzazione dei consorsi di bonifica le leggi sull'ambiente l'avanzamento e le pulizie dei rifiuti l'emergenza acqua che cosa dice questo che noi dobbiamo essere in grado partendo da una prospettiva che è la nostra di dare soluzioni alla toscana questo è il modo più giusto per rappresentare i due punti di vista di cui non dobbiamo mai scordarci e la rappresentanza è una è uno degli strumenti ma senza la consapevolezza collettiva di una intera comunità anche questa rappresentanza rischia di fare flop tra l'altro le condizioni oggi sono anche un po' diverse dal passato appunto perché i livelli istituzionali non sono più quelli di prima e poi perché per fortuna il consiglio regionale è dimagrito si torna a 40 consiglieri si riducono i costi della politica ma ci sono degli effetti collaterali il primo è che una realtà come la nostra può avere solo un consigliere su 40 non uno del partito democratico su 24 uno consigliere regionale che sarà del partito democratico su 40 consiglieri regionali quindi è chiaro che il livello il compito la qualità l'impegno di quell'unico rappresentante su 40 deve essere molto molto alto e deve avere la capacità di sintonizzarsi con un territorio molto vasto conoscendolo ricordo solo che nella legislatura che si è appena conclusa avevamo 5 persone in rappresentanza del territorio due assessori regionali e tre consiglieri regionali le cose saranno molto molto diverse è chiaro che molto dipenderà anche nelle elezioni regionali che cosa succederà in provincia di Grosseto perché l'obiettivo nostro deve essere quello di mantenere anche un ruolo di governo perché è evidente che in consiglio si possono fare tante cose ma si fanno solo dopo a valle bisogna vedere anche come si condizionano a monte i provvedimenti le scelte che tipo di prospettiva da qui si dà alla Toscana è una prospettiva interessante per la Toscana non è soltanto interessante per la Maremma e io credo che questo è il modo giusto di rapportarsi e questo può essere il modo giusto anche che la Toscana si rapporti verso di noi due temi importanti per questo territorio e che non riguardano necessariamente l'agricoltura che ovviamente non la cito ma non perché non sia importante ma riguardano invece lo sviluppo quando gli imprenditori si avvicinano a questo territorio anche da fuori riscontrano due problemi di fondo uno quello patavico della mancanza di infrastrutture l'altro gli eccessivi costi dell'energia è un po' in tutta Italia questo secondo ma insomma quello che mi viene che fa pensare qui in provincia di Corseto è che in realtà la provincia di Corseto di energia ne produce tanta ed è curioso che in un luogo dove se ne produce tanta i costi cioè non si sia pensato ecco qui forse non si sia pensato di abbattere proprio in questo di alleviare in questa maniera la presenza di impianti di situazioni che fanno anche discutere di alleviarle non magari con dei contributi che arrivano agli enti come stanno arrivando perché poi ci sono quelli ma proprio abbattendo i costi e favorendo l'insediamento di imprese in questa maniera perché non è stato fatto era proprio impossibile non ci sia pensato è fantascienza cioè voglio dire non è una cosa che può stare sui tavoli delle trattative con i grandi gruppi come Enel oppure era possibile ma si è scelto diversamente allora le cose non stanno esattamente in questo modo sul piano della carenza infrastrutturale abbiamo l'autostrada ancora che questo non vale nemmeno commentarlo spero e questo sento ma anche forse si farà io penso che si farà io penso che si farà e se quelle anticipazioni che abbiamo letto ma la farà cioè nel senso con quali soldi ma se se le anticipazioni che abbiamo letto io commento solo le anticipazioni quindi non ho nessun altro davvero nessun altro dato fossero vere si fa l'autostrada come si sono fatte l'autostrada in Italia cioè con la solidarietà del sistema autostradale italiano la autostrada Adriatia oggi finanzia la Milano Brescia e ci sarà il sistema autostradale italiano che finanzierà il completamento del corridoio che qui ha una strozzatura e che non ci possiamo sognare che una strada già realizzata venga espropriata dal territorio per metterci caselli e questo non è possibile quindi verrà adeguata in parte come abbiamo letto potrà essere anche a pagamento bisogna vedere dove passa perché non è in influente dove passa ma se quella è la strada che vogliamo percorrere mettiamoci seduti al tavolo guardiamo le condizioni reali valutiamo i progetti ma è l'approccio che a me piace anche la senese alla fine abbiamo atteso moltissimo ma penso che siamo ad un punto di svolta vero perché questo governo ha messo i soldi che mancano e i lavori che sono in corso sono davvero spediti quindi diciamo che da questo punto di vista registriamo una carenza storica ma c'è un pelino di ottimismo in più che io metto sul tappeto mentre per i costi energetici in realtà i costi più grandi non sono quelli dell'energia ma sono quelli della burocrazia che non è soltanto qui è in Italia non l'ho citato perché non riguarda soltanto la provincia di Grosseto evidentemente oggi noi possiamo vantare però in provincia di Grosseto un quadro di regole almeno urbanistiche maturo per cui chi viene ha intenzione di investire sa cosa può fare dove lo può fare e se propone una cosa che non è negli strumenti sa perché avrà chi gli risponde in qualsiasi comune del territorio cosa potrà fare e se è possibile variare una regola per farli realizzare questa cosa si è risolto tanti problemi si sono ridotti molto i tempi sì rispetto ai 12 anni che ci voleva prima ma ci vogliono sempre un bel po' di anni quindi questo è un peso i costi energetici se qualcuno si lamenta si lamenta senza conoscere le cose noi siamo il territorio dove si produce in Toscana e pro capite irraggiungibili il maggior numero di kilowattori quello che prima di bagnare 4 si producesse il 120% dei fabbisogni esatto ma a quelli si aggiunge si devono aggiungere tutti gli impianti di energia da fonti rinnovabili che in questi anni sono stati realizzati e non sono pochi sempre qui e non altrove in Toscana rispetto a per esempio deregulation che ci sono state anche a Pisa qui noi abbiamo fissato delle regole e abbiamo realizzato ma il consumo è un'altra cosa chi oggi vuole in Italia spendere meno sa come fare c'è il mercato elettrico chiunque ha un'azienda che consuma molta energia oggi compra l'energia al mercato elettrico nazionale e ci sono anche nel nostro territorio delle imprese importanti che spendono per energia molto meno di quello che è il prezzo convenzionato e facilitato che è nel proprio virtù degli accordi fatti sulla geotermia propone in quelle aree geotermiche quindi la liberalizzazione produce degli effetti è chiaro che io da solo o noi da soli a comprare energia non ci possiamo andare dobbiamo mettersi insieme a tanti altri e ci sono imprenditori in provincia di Grosseto che lo hanno fatto ci sono consorsi anche grossetani di acquisto di energia che hanno prezzi vantaggiosi come i competitors primari nei loro vari campi bisogna avere questa mentalità oggi non è possibile pensare che il vicino sia un competitore è un cooperatore se vogliamo davvero svincere la sfida della competitività che naturalmente è globale anche da noi sebbene siamo una realtà meno internazionalizzata ma quante persone vengono da noi anche in vacanza siamo anche noi e dobbiamo stare anche noi in quel criterio di valutazione del proprio modo di essere uscire un po' dal guscio serve anche a migliorarsi prima di chiudere e tornando sui temi invece della rappresentanza del territorio e delle differenze che ci sono tra questo e altri territori penso alla miriade di piccoli centri di piccoli comuni di piccole realtà dove ultimamente stanno chiudendo tutta una serie di servizi pensare alle poste è quasi banale vengono via poste banale nel senso che è sotto gli occhi di tutti banale in questo senso non perché sia banale il problema ma è di un'evidenza tale che qui forse c'è bisogno anche su questo punto di politiche è vero forse il territorio può fare delle proposte però bisogna che in regione ci siano orecchie attente ad accoglierle perché come dire l'altra soluzione è che veramente certi centri perdano veramente tutto e si riduca la popolazione o meglio avvenga un inurbamento non necessario in un'ottica di un territorio rurale anzi negativo per un territorio rurale lo spopolamento dell'area interna è devastante dal punto di vista sociale dal punto di vista ambientale ed è un interesse pubblico nazionale non è soltanto una preoccupazione locale almeno deve diventarlo questo è un tema veramente importantissimo condivido che dobbiamo affrontarlo anche con una proposta che non sia semplicemente anche qui solo la protesta che serve a tenere alta l'attenzione certo l'attenzione la coscienza collettiva e anche in chi non vive queste difficoltà riconoscere il fatto che c'è la necessità di un intervento specifico perché in queste realtà ci stanno persone ancora scegliendo di viverci lavorandoci che hanno gli stessi diritti di chi vive in altre realtà dove più comodamente si possono consumare servizi pubblici pagano le stesse tasse pagano le stesse tasse e hanno un disagio superiore chi vive in campagna ovunque viva già da tempo denuncia questo disagio godendo gli stessi diritti ma non avendo le stesse condizioni per poterlo fare questo è un tema vero due anni fa è partita una strategia nazionale sulle aree interne era ministro Barca oggi lui segue queste cose come dirigente dello sviluppo economico del ministero e insieme ai comuni dell'interno tutti dell'Unione dei Comuni del Fiora della Miata e delle Colline Metallifere è stato proposto un progetto che tiene conto soprattutto dell'agricoltura sociale della formazione dell'istruzione pubblica e quindi della rete delle piccole scuole dei servizi come quelli postali di prossimità della sanità territoriale cioè dei servizi di base pensando di mettere insieme le nuove tecnologie che magari possono essere di aiuto per evitare di spendere male i soldi perché è inutile far passare un pullman vuoto in trappiuborghi tutti i giorni si buttano via i soldi del gasolio e di quell'autista meglio pensare magari ad un servizio organizzato di trasporto di persone quando ce ne è bisogno su chiamata su chiamata magari poi utilizzando assistendo le persone anche attraverso le nuove tecnologie una rete che può essere implementata ecco questo è un progetto che io credo che debba essere sostenuto parecchio dalla regione toscana non solo per le aree interne naturalmente nostre ma per le aree interne della toscana ma noi parliamo del nostro e ci teniamo comunque è un progetto per la toscana è un progetto per la toscana proprio perché concretizzare oggi questa dichiarazione godere degli stessi diritti ed avere le stesse prestazioni è una cosa che va costruita fra l'altro non ci vuole nemmeno tanto in termini di risorse ci vuole poco rispetto invece a quello che è la necessità in un'area metropolitana di tenere insieme un sistema di welfare perché è costosissimo quindi non è che possiamo dire di pretendere la luna abbiamo delle idee le presentiamo e abbiamo anche delle scarse pretese però quelle scarse pretese meritano di essere in qualche modo esaudite bene grazie Marras grazie a chi ci ha seguito da casa l'appuntamento al prossimo pagina 9